In questo video corso vedremo come creare con il programma GIMP un effetto pellicola di qualche tempo fa utilizzando più foto a nostra scelta. Una volta avviato il programma GIMP clicchiamo su file apri quindi a sinistra clicchiamo il percorso in cui abbiamo le foto nel nostro esempio scrivania quindi desktop e prendiamo per esempio con un clic la foto mare 1 e poi clic su apri. Ripetiamo ora la procedura aprendo una o più altre foto quindi di nuovo clic su file apri scrivania è già cliccato da prima quindi l'ultimo comando rimane in memoria in alternativa clicchiamolo per sicurezza questa volta prendiamo mare 2 clic su apri poi nuovamente clic su file clic su apri scrivania clicchiamo su mare 3 clic su apri e avremo in parallelo quindi ogni foto occupa una finestra le tre immagini desiderate. Su una delle tre foto clicchiamo in alto nella barra dei menu su filtri poi su combinazione in alcune versioni precedenti di GIMP è combina e su pellicola clic. Ecco la nostra finestra nella quale potremo gestire le opzioni della pellicola. Il colore nero si riferisce al bordo della pellicola quindi come nelle classica sequenza di diapositive di un tempo. Il colore arancione è relativo alla numerazione di ogni singola posa quindi se avremo tre foto avremo fotogramma 1 fotogramma 2 fotogramma 3. L'unico comando su cui dobbiamo agire è quello che vediamo nei due riquadri bianchi. Immagini disponibili sono le immagini aperte immagini su pellicola sono quelle che dovranno finire sulla pellicola. Il programma GIMP ce le va a numerare quindi senza nome 2 senza nome 4 senza nome 6. Senza nome 6 c'è già e lo vediamo perché è sia in immagini disponibili che su pellicola però mancano la fotografia numero 4 e la numero 2 per cui clicchiamo su senza nome 4 e clicchiamo aggiungi clicchiamo su senza nome 2 e clicchiamo aggiungi ed ora abbiamo tre foto aperte tre foto a destra sulla pellicola. Confermiamo semplicemente con ok e dopo qualche secondo ecco con poco sforzo una bella pellicola con le istantanee del mare. Un effetto semplice e comodo da utilizzare. Non ci resta che salvarlo quindi facendo attenzione ad essere sulla finestra relativa alla pellicola clicc su file dal menu scegliamo esporta in alto inseriamo il nome della nostra foto per cui pellicola ricordandoci di aggiungere punto jpg specificando che la nostra pellicola in quel particolare formato di immagine clicchiamo quindi su scrivania e a questo punto cliccando su esporta avremo la nostra finestra di conferma la qualità lasciamola pure al valore impostato che sia 85 o 90 clicchiamo su esporta e il nostro salvataggio a questo punto sarà compiuto. Chiudiamo ogni finestra con x eventualmente spostiamo i riquadri se non vediamo i comandi chiudiamo la finestra principale di gimp due clic sulla nostra icona pellicola direttamente dal desktop ed ora non avremo più alcun bisogno di gimp per aprire la nostra pellicola ma sarà una normale immagine jpeg che verrà gestita dal nostro computer cioè da windows e che potremo inviare comodamente in allegato tramite la posta elettronica o potremo inserire con inserisci immagine da file all'interno di un nostro lavoro realizzato con open office buon divertimento